Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream, io sono Ratorix mentre oggi siamo tornati su Sneak Tiff Ragazzi ho visto che l'episodio precedente vi è piaciuto, cosa della quale sono molto contento Per questo oggi siamo tornati qui, la cosa che volevo fare principalmente era il livello nuovo Perché con quella scritta rossa mi sta dicendo tipo provami ora Comunque prima di cominciare ragazzi, capiamoci Io ci ho messo un sacco di tempo a completare i livelli precedenti e ci sono anche morto un sacco di volte E quelli erano soltanto modalità facile Cioè in questo momento io mi sto preoccupando per che cosa mi aspetta adesso in modalità normale Che cioè ragazzi ormai soltanto a sentire normale mi viene paura Comunque vada non perdiamo tempo, vediamo che cos'è questa volta questo livello The Collector Che a quanto pare dal nome suppongo che dovremmo collezionare qualche cosa Che cosa non lo so, ditecelo per favore Vediamo un po', sono davanti a una casa, una villa madonna, non una casa La macchina sta qui, perfetto, quanto devo raccogliere? 600.000 Va bene, entriamo, non lo so, credite se entro dalla porta principale e non mi ammazzano, vero? Uh, prendi l'arma? Ok, mi piace questo Aspettate, c'è qualcuno qui? No, non sembra che ci sia nessuno Ma se tipo sbatto qui No, madonna, c'era qualcuno Voglio vedere, probabilmente ci sarà l'allarme ma voglio fare la cavolata Uh, non c'è Ok, va bene Allora, rompiamo pure questo No, ok, perfetto, spero che Madonna, mi hanno sentito, mi sa Eh, non lo so, andiamo dietro, anche se ormai credo che mi hanno visto Scusate, se mi nascondo qua dentro, non mi fanno niente, vero? Eh, ok Ah, oh, fuck, 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 scappa Scappa, scappa, scappa Cosa vuole, signore? Mamma mia, io mi difendo qua Io tra un attimo sarò costretto a difendermi Comunque non hanno delle armi Aspettate Vediamo un po' Ah, fuck Che cos'è sta roba? Ok, vediamo chi vince Eh, 2 contro 1, non vale così 3 contro 1, mio Dio Ok, meglio levarsi dalle palle in questo momento Perché questi mi potrebbero fare del male Sapete cosa ce faccio? Tutto quanto veloce Praticamente, visto che questi qua sono usciti tutti Prendo tutto quanto, quello che posso Quello che trovo Eh, Dio mio, dove siete? Ok, scappiamo, scappiamo, scappiamo Allora, sono pronto, sono pronto Venite, venite Ci sono buggati, ragazzi Mi sa di sì? Allora io con calma prendo questo vaso Prendo anche questo Eh, io non so dove lo rosso Ah, madonna Porca, troppo What the fuck Io l'ho detto, ragazzi Questo gioco è peggio di un horror Dove sto andando? Prendi questo Eh, cosa posso prendere? Prendo tutto quello che posso, ragazzi Dio mio, c'è qualcuno Ho visto qualcuno Ho visto delle luci blu Fuck Eh, ok, ok, ok Gli raggiriamo di nuovo Ed ora prendo ancora qualcos'altro Vediamo Eh, artefatto, veloce Ok Ancora qua Prendiamo questo Forza, forza, forza Non c'è tempo Non c'è tempo Ah, ah, ecco lì Eccoli, ecco lì 50% di vita, ragazzi In questo momento sto facendo un casino enorme Posso scappare da qui? Non posso Fuck Ok, 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 ok Venite, venite, venite Bravi Tutti quanti qua Ora io giro E mi levo dalle palle Perfetto Ora Non c'è nessun'arma normale Perché io qua Con un martello Non è che mi ci trovi Proprio tanto Bene Fuck Dove siete? Cosa fate più che altro? No, salta Madonna Che salti che ho fatto Prendi questo Scappa, scappa 500.000 Me ne servono 600 Maledizione Uscite di nuovo dalla casa Io sto qui nell'angoletto Perfetto Venite, venite, venite Tutti e tre in fila indiana Bravissimi Mamma mia Mi piace tantissimo questo livello Cioè li sto prendendo per il culo Qualcos'altro che mi posso inchiappettare Questo per esempio 560 570 No, 565 Maledizione Oh mio dio Sono in una trappola Ragazzi Sono in una trappola Giro, giro Tondo Casca il mondo Casca la terra Madonna Dove siete? Che ne so Vado qua Ok, qua è per l'uscita Ma a me servono 600.000 E questo è il problema principale Ragazzi Però io ho preso tutto quello che poteva Madonna la luce Dov'è? Ma che cavolo Perché fa così? Quanto serve? 600.000 Io non ce li ho Dove devo andare per prendere 600.000? Devo trovare qualcosa Ma non c'è niente Dove vado adesso? Non mi hanno visto Non mi hanno visto Con calma Ragazzi Ok Qua Un orologio Bene Un orologio d'oro Un telefono a 700 dollari Buonissimo Ancora ancora La tv Come ho pensato Come ho fatto Oh no Pensare alla tv Fuck Ho controllato Tutta la Cosa c'è là? Questi mica li ho visti prima Oh La ci devo andare tipo subito Signori Ci siete? Allora la porta a sinistra La prima porta a sinistra Ok Oh fuck Ok ok Sono pronto Sono What the fuck Tu da dove sei spuntato? Ma maledizione Ma questi qua spuntano come funghi Dove sono? Dove sono? Aiuto Dai 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 Ce la posso fare Mamma mia Ce la posso fare ragazzi Ok 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 Uno l'ha ammazzato Perfetto Perfetto Allora Prossimo Chi vuole una martellata in faccia Eh maledetti Ok Ok Ah due Ne ho presi due Perfetto Ancora vivi siete Ma che cavolo Si sono presi Venti martellate Ancora stanno in piedi Ma dio mio No è morto finalmente Ah Ovvio Dammela adesso l'arma Maledetto schifoso Certo una volta che li abbiamo ammazzati tutti Adesso comunque possiamo fare con calma Giusto? A proposito Mi ricordo che Nell'episodio precedente C'erano dei codici nascosti dietro ai libri Vediamo se qua magari ci sta Eeeh Vedo tanti Eccolo Questo qui è un libro molto sospetto Cosa hai dietro Eh? Cosa? Che cavolo ho fatto? Uh Intanto ho preso un trofeo qua Eh un artefatto 200.000 Ok adesso con calma Tanto non ci possono fare del male Prendo questo Prendo praticamente tutto quello che posso adesso Eeeh Cosa ho sbloccato Ma sti cavoli Tanto non mi possono fare niente per ora no? Opa Prendi l'arma Uh Ma me lo dici Adesso che ci stava una maledetta spada Sapete che c'è prova ad arrivare un milione Vedo se ce la faccio Prendi questo Ok Prendi questo Ho detto prendi questo Posso? Grazie Un milione Un piatto d'oro valeva un milione Cioè 200.000 Quel che era Madonna ragazzi Allora Eeeh Siamo riusciti a guadagnare un milione così a caso Vediamo il prossimo livello Quello con lo yacht Se non sbaglio si dice così 100.000 Soltanto 100.000 Mi chiedo Ma posso nuotare? Quello lo prendo come un no Uh Un telefono Quanto ho guadagnato? 750 DOLLARI Ooooo Godo ragazzi Mi servono 100.000 Cosa devo fare? Entro qui? Non c'è nessuno vero? Mo ti puo apro la porta e ci sta qualcuno qua dentro Eeeh Pronto? C'è nessuno? Qua? Qua? Ok non c'è nessuno Perfetto Eeeh Minculo il telefono La birra non credo Infatti non si può 39.000 ragazzi Manca poco Perfetto Eeeh MP3 Buono Eeeh Niente Non ci sta più nient'altro Che tristezza Adesso ragazzi con calma Perché sono sicuro che qui ci sarà qualcuno Vediamo un po' La La ci sta nessuno? Ah What the fuck? What the fuck? What the fuck? Porca truglia di infarto Ok questo qui l'ho ucciso Eeeh Non ho Vabbè Mi prendo Ah Dove? Dove? Da dove? Da dove? Da dove? E scappa Salta 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 Usa le tue tattiche di Counter Strike Madonna Ok Allora Dove sei? Dove sei? Eeeh Madonna quanti cavolo Ma che mira di merda che c'ho ultimamente Ma dai Ok ci siamo Vendi l'arma Perfetto Vai da questo Adesso Sono pronto anche a te Ma dai Ma non è possibile Ok 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 Ah Fuck Ok si è preso 20 colpi in testa Adesso tu Ok Corri 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 Perfetto L'ultimo Me ne manca uno ragazzi Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ti prendo Ti prendo Ti prendo Ma questo già mi spara Ma il maledetto aimbot del cavolo Sì Sì 33% di vita Ok Perfetto Eeeh Qua ci sta qualcos'altro Oh Una tv Sì è una tv Un altro quadro Schifoso Sempre Uncora un altro quadro Qua cosa ci sta? Ah posso prendere anche questo? Come ci si abbassa E la madonna Ma che è tutta sta roba? 60.400 Che altro ci sta? Questa porta qua Non l'ho ancora vista Apri qua Uuuuh Cos'è qua? Una cassaforte E ok Ah What? Cosa mi ha ucciso? Perfetto Allora a quanto pare ci sta la cassaforte Con un codice Allora Io ormai mi sono imparato ad ammazzarli Innanzitutto Le altre armi fanno schifo Questa qui è la migliore Signore Mi dispiace ma la devo leggermente ammazzare Fuck Perché sei ancora vivo? Eh vabbè ho perso Allora Qua a quanto pare ci dobbiamo tirare le mani Ok, ok, 100% di vita ragazzi Dov'è l'ultimo? Ok, ok, eccolo qua Ok, ci siamo, ci siamo Allora, adesso Dobbiamo trovare ragazzi il codice Per quella cosa, per quella cassaforte Ah Ecco che cos'era E come faccio a superarlo? Così? Ok Ce ne sta un altro qua L'ho visto Vabbè L'ho visto dei documenti Che prenderò sicuramente Allora Eccoti qua 59.000 Ok Me ne mancano ancora 40.000 circa Dove sta il codice però? Fuck Maledizione Non ho la più pallida idea Di dove andare a cercare Questo maledetto codice Ah come ci sono ancora stato? Vediamo un po' qua La pistola con il silenziatore Me lo dice adesso? Oh mio dio Io ti faccio male Te lo giuro Eccolo ho trovato 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 Veloce 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 Salta Ok ci siamo Salta Ok Adesso Da qui Con calma Con molta ma molta calma 5 3 4 2 Affacattento che mi stai per spingere addosso a quella cosa Allora Ora che cosa mi posso incappettare da qua? Fatemi vedere Attenzione attenzione Si Mamma mia ragazzi Quanto oro Perfetto 1 2 3 Mamma mia sono ricco Cioè praticamente potevo venire a fare soltanto questo Ora Leviamoci dalle palle da qua E torniamocene a casa con il nostro bottino Anche se ho visto che più il livello è difficile e meno soldi dobbiamo raccogliere È strano Aspettate un attimo Voglio fare una cosa proprio di vendetta Muori Schifoso Maledetto schifoso Madonna che lag Ma che Ma che What the Eh Cosa Cosa ho fatto Eh Eh What Come Ah Ok Ma se ricarico Oh mio dio È fantastico È bellissimo No ragazzi No È fantastica questa cosa Poi ragazzi ho visto sono ancora rimasti due livelli da fare Ma questi me li lascio per il prossimo episodio Mentre io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto ho dato una zampata su mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao